Amici sportivi un cordiale saluto da Gerardo Lobosco, stadio De Filippo di Casalbuono per seguire la partitissima del girone B di eccellenza tra il Valdiano e l'Agropoli, prima contro quarta e quasi tutto pronto per il fischio di inizio di questa gara che parte in questo momento agli ordini del signor Palumbo di Bari. Ancora c'è questa azione con Aracri, palla in mezzo e sbaglia in maniera clamorosa, palla in mezzo e c'è lo stacco di testa, ancora Siciliano supera uno o due avversari, si avvicina all'area di rigore, supera un altro e cade a terra e guadagna un calcio di punizione. Tutto pronto per la battuta, Siciliano palla a girare, è la sfera che termina di poco all'altro. Da parte dell'estremo difensore Spicuzza, lunghissimo ancora il suo lancio, Magallo alla meglio su tutti, poi va a recuperare, ancora c'è questo bel lancio, Trimarco, Trimarco attaccato da un avversario, supera e lascia partire un bel tiro e chiama all'intervento l'estremo difensore. Il solito gullo, palla che arriva a Siciliano, Siciliano attaccato da un paio di avversari, finisce per perdere palla. La recupera Bozzi che appoggia su Natiello, Natiello prova ad andarsene, serve Apicella, Apicella al limite dell'area, guadagna il pallone. Resta in campo, l'arbitro reclamano qualcosa a quelli dell'Agropoli, intanto vediamo che Trimarco finisce per perdere. E c'è il fallo di Landolfi, abbondantemente oltre i 30 metri. Palla che gira, e c'è una grande parata, c'è una grande parata. Calcio d'angolo per il Valdiano, palla in mezzo, Abate. E c'è un calcio di punizione. Ancora un calcio di punizione nell'azione precedente. Il Valdiano è andato vicino al vantaggio, ma spicuzza con un intervento straordinario ha negato la rete a Petriccione. Ora c'è ancora un calcio di punizione. Vediamo. Siciliano, siciliano, palla a girare. E ancora una volta, termina all'altro. Palla che resta in possesso dell'Agropoli con Gullo. Ancora per Lopetrone. Potrebbe essere una delle ultime azioni di Lopetrone. Ancora guadagno e gol! Gol di guadagno! Al quattordicesimo c'è un gran gol di guadagno. Intanto c'è ancora un'azione. Imballati dalla... Seguiamo. Batte la punizione. Natillo. Seguiamo. Fasi di gioco. Palla in mezzo. E c'è il 2-0. C'è il 2-0 di Maione. Vincenzo Maione realizza il 2-0 al diciottesimo. E la gara si mette in discesa per l'Agropoli. Spicuzza in avanti. Abate ancora più in alto di tutti. Cerca e trova Trimarco. Trimarco cambia gioco a cercare Aracri. Aracri entra in area. Entra in area Aracri. Poi mette in mezzo. E guadagna anche questa volta solo un calcio d'angolo. Palla ancora in mezzo. Eeeh! Questa ghiotto opportunità. Solo una rimessa laterale per il Valdiano. Trimarco. Trimarco controlla. Scarica su Siciliano. Siciliano Trimarco. Ancora Siciliano. E c'è ancora un grande intervento su Aracri. Davvero straordinario.